Giorno a te, tanti auguri a Bruno, tanti auguri a te. Giornata di festa alla Casa Albergo per Anziani Famiglia Nova a Fano, dove Bruno Gambini ha spento 101 candeline. Nato a Rosciano nel 1915, Gambini è stato sposato per 61 anni con Luisa, ormai defunta, della quale è stato molto innamorato. Bruno, che ha lavorato prima come agricoltore e poi nelle ferrovie dello Stato, ha festeggiato il compleanno ultracentenario nella Casa di Riposo Fanese, dove oggi lo abbiamo raggiunto. Ai centenari o agli ultracentenari solitamente è d'obbligo chiedere qual è il segreto della longevità. Lei ne ha uno? Sono molto brava, quella è la cosa più bella del mondo. Per me era molto brava. Insomma, anche l'amore allora può contribuire a rendere più bella la vita e anche più lunga. Sì, sì. Io ho lavorato molto in ferrovia. Ho avuto 22 anni di lavoro continuamente, già quello è volto, per la famiglia e per me. È stato molto utile. Ho visto prima, non sapevo cosa volevo dire i soldi e dopo li ho visti qualche volta, perché alla fine del mese c'era sempre la paguccia. La responsabile di famiglia nuova, Deborah De Angelis, ci racconta come il nonnino ami la compagnia, ma anche curare l'orto interno alla struttura. Deborah, Bruno è qua ormai da tre anni. Come vi trovate? Lui è un compagnone. Sì, Bruno ama tantissimo la compagnia. Diciamo che è entrato che non stava proprio così bene, invece nel giro di pochissimo si è ripreso fisicamente e inserito in tutti i gruppi di amicizie. Lui gioca le carte, lui si occupa del nostro piccolo orto. Anzi, lui stesso a ricordarmi, guarda Deborah che è ora di andare a comprare il concime, piuttosto che ama la compagnia femminile. E quindi noi operatori siamo soprattutto donne. E poi sì, è una persona piacevolissima, ha una bella famiglia molto presente, loro sono sempre qui per visitarlo, ma anche per ogni occasione importante. E anche oggi arriveranno per festeggiare? Sì, oggi dalle quattro e mezza ci sarà la torta spumante, verrà l'assessore ovviamente a fare gli auguri a Bruno e tutti noi non possiamo mancare. Auguri! Tantissimi auguri di buon compleanno. Grazie, grazie altrettanto, grazie a tutti. Arrivassi, sì anche più, perché ci sono anche di più gli anni, arrivassi alla mia età. Ma già è un treguardo molto bello, perché cento anni passati è una vita molto bella. E poi non quello solo, a star bene, quello vuol dire tutta la mia vita. Auguri a te! Olè! Questo è il nostro paolo di vedere era, è unPersi, è un quartoio tossicivo a te.